Senatore Tosato, lei ha detto che con il DL Cultura il governo Renzi svende i mercati e favorisce le fondazioni private. Che cosa vuol dire? Per quanto riguarda le fondazioni liriche e sinfoniche c'è un provvedimento che prevede un fondo di rotazione di 50 milioni di euro che però vengono destinate solo ed esclusivamente a quelle fondazioni che non hanno i conti in regola. E quindi secondo il solito principio che chi investe bene, chi gestisce bene le risorse, mi riferisco alle fondazioni di Torino, Milano, Verona e Venezia, fatalità, non otterranno nessuna attenzione da parte del governo e come sempre chi amministra male invece riceve dallo Stato aiuti per tutti i debiti che hanno contratto in questi anni. Questo è uno degli aspetti negativi. Altro aspetto negativo è legato al fatto che alla faccia della meno burocrazia si autorizzano le sovraintendenze locali, gli uffici staccati del Ministero, di decidere quali mercati rionali si trovano in localizzazioni, in luoghi non adatti a tali attività, con poi eventualmente la necessità di spostarli con contenziosi con i commercianti, con danni. In una situazione in cui già questo settore è in crisi, io credo che questa scelta sia assolutamente irrazionale. È giusto che questo compito di razionalizzazione dei luoghi dedicati ai mercati, se proprio deve essere svolto, sia svolto dai sindaci che hanno una visione completa di quello che è il decoro da una parte, ma anche la necessità di non creare tensioni sociali e arreccare danni al tessuto economico. Ultimo aspetto, secondo noi negativo, è legato alla parte che riguarda il turismo. Come sempre si promuovono leggi che vanno a stanziare crediti di imposta, fondi di rotazione, tutte iniziative che coinvolgeranno pochissimi addetti ai lavori, quando in realtà quello che si deve fare è semplicemente ridurre la pressione fiscale su questo settore, perché ormai le nostre strutture ricettive non sono più competitive rispetto ad altre strutture che si trovano sempre nel Mediterraneo ma in altri paesi e questa è la vera sfida, ridurre la pressione fiscale e di conseguenza la spesa pubblica. Quindi si tratta di una serie di piccoli interventi, alcuni negativi, alcuni inutili, che dimostrano che in questo governo non c'è nulla di rivoluzionario, ma la continuità di decreti omnibus che non portano da nessuna parte.